Chi è che parla per noi veramente? Per me, quando dobbiamo sentirmi le vostre, già ditero, per me, sono di generazione, sono di generazione, sono di grighe e di piatto, per ogni sono del minaccio, quando mi fanno male il schiavo, e sai come va, la Roma, e poi, la morte, quando vuole, ci arriverà, mi sapevano a me, e mi si rompono in fila, poi, cazzo in giallo, ci dà più in Italia, una missione fondamentale, quando mi fai fin, poi, per un giorno, non sforzo a sgueta, con le massi di cuoto, c'è che è un po' più grande, sapete cosa faccio, e ho capito che sempre la regola in Italia, e qua è una legna assurda, dunque la potenza di simbretti, in battuta, un po' di gente se la meno, e la pata, la legge di me, comunque non mi fanno meno spettinare, e sai come è che va, Roma dove, non dicete, ci sente, non ci sente, questa vita, è un problema, ci sento, no, non ci sento, ci sento, no, ma mi sci, mi fa, 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 ma te è un po' di gente, mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, ma mi fin, ma la mia, io, 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 di più già a me non senti la mia prima staglia mai più sempre di più prevedendo di più sempre